A Nangrigento, alla Palazzo di Giustizia, nel corso di un'altra udienza del processo per l'incidente stradale lungo via Cavaleri Magazzeni, che il 30 dicembre 2013 ha provocato la morte di Chiara Lamendola, 24 anni, è intervenuto Ignazio Lamendola, fratello della vittima e parte civile tramite l'avvocato Salvatore Pennica. Ignazio Lamendola, tra l'altro, ha affermato «Solo un pluripregiudicato e sto pagando per i miei errori. Mia sorella è morta per un'amministrazione distratta e inefficiente. Devono pagare anche loro». Fin dai primi istanti si puntò l'indice sulla presenza della buca e il sindaco di allora, Marco Zambuto, volle rabbonirci offrendoci denaro, prima con 250 euro consegnati all'obitorio dal suocero e poi con la complicità di due avvocati vicini a Zambuto, 1.200 euro, con un assegno a mia moglie, attraverso un escamotage e poi mi sono stati promessi 50.000 euro. Volevano tenerci buoni. Il processo si svolge innanzi alla giudice Giuseppe Miceli, a carico del dirigente dell'ufficio tecnico comunale Giuseppe Principato e del funzionario Gaspare Triassi, responsabile del servizio strade comunali, imputati di omicidio colposo.